Voglio parlarvi del nostro mondo, meraviglioso, grande e rotondo, mondo abitato da grandi e piccini, mondo di mamme, papà e bambini. Un mondo fatto di tanti paesi, piccoli piccoli o molto estesi, diversi per lingue e per usanze, ogni paese ha le proprie danze. Il nostro mondo, il nostro mondo. E piatti tipici, giochi e canti, per questo sono proprio tanti, i giochi e i canti di tutto il mondo, meraviglioso, grande e rotondo. Il nostro mondo, il nostro mondo. Voglio parlarvi del nostro mondo, meraviglioso, grande e rotondo, mondo abitato da grandi e piccini, mondo di mamme, papà e bambini. Un mondo fatto di tanti paesi, piccoli piccoli o molto estesi, diversi per lingue e per usanze, ogni paese ha le proprie danze. E piatti tipici, giochi e canti, per questo sono proprio tanti, i giochi e i canti di tutto il mondo, meraviglioso, grande e rotondo. Il nostro mondo, il nostro mondo, il nostro mondo. Il nostro mondo, il nostro mondo, meraviglioso, grande e rotondo. Grazie. 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 Grazie.